Ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Allora, guardando un po' in giro sul web, ho notato che stanno andando tantissimo di moda in questo periodo le flat waves. Sarebbero praticamente delle onde super morbide e naturali fatte appunto ai capelli. Io ho deciso di fare la mia proposta e quindi vi mostro come le ho realizzate io. Spero possano piacere anche a voi. A me sono piaciute veramente tanto, anche perché danno un effetto super voluminoso ai capelli. Io amo i capelli voluminosi. Nulla, ho trovato molto semplice da realizzare questo tipo di onda. Ho utilizzato la mia solita piastra GHD e quindi nulla. Vi lascio il video e spero vi piacciono. Un bacio! Quindi, per realizzarle, ho suddiviso i miei capelli in varie sezioni. Quindi, una volta creata la prima sezione di capelli, vado ad estrarre la prima ciocca. La vado ad inserire all'interno della mia piastra e faccio questi movimenti rotatori in modo alternato. Arrivata, quindi, alla fine della mia ciocca, faccio la punta liscia, semplicemente. Quindi, continuo così per tutto il resto delle altre ciocche e ci vediamo una volta appunto finito. Grazie a tutti. 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 con le mani per avere un effetto più naturale però potete anche lasciarli benissimo così a voi la scelta insomma nulla, spero possa piacervi questo video possa esservi utile in qualche modo io vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando lasciatemi un bel pollice in su ed iscrivetevi al canale ciao ah dimenticavo una cosa fondamentale perché so che la scriverete sicuramente nei commenti, scusatemi la mia faccia super concentrata diciamo inguardabile veramente però è la mia faccia da specchio ragazzi, non ci posso fare nulla un bacio, ciao grazie a tutti grazie a tutti